300 metri Oh, 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 sì, siamo arrivati e ora ti aspetto sul jessicarizzoonline.com più caldo che mai Oh, non è uno ragazze, questo è un tonton, è un GPS il nostro tonton funziona così, anzi il tonton di Johnny, perché lui è un porco Oh, porcellino mio Ah, sentito! Alla fine della strada facciamo l'amore nel traghetto Questo è un vero tonton, perciò mi raccomando comprate perché è davvero tosto Io sono Eo Santiago, di qualsiasi posto del mondo parlando di qualsiasi cassata per voi Tra poco torno, ciao!